Come si fa per fare ciò? Innanzitutto, come ben sai, tutte le idee più brillanti e geniali sono in fondo semplicissime. Diventando un membro attivo del programma di sviluppo internazionale della pubblica carità, Cool World, potrai ricevere centinaia di trasferimenti di denaro sui tuoi accounts ogni giorno. Sì, proprio così. E ovviamente non si parla di cifre pari solo ad un dollaro, ma anche di 5, 10 o 15 dollari. E le persone provenienti da ogni parte del pianeta saranno felici di inviarti denaro. L'obiettivo del programma è semplicemente quello di raggiungere milioni di persone che desiderano aiutare il prossimo. L'unico modo per registrarti al programma Cool World è attraverso un certificato di invito che puoi ricevere solamente da uno dei membri che fa parte del sistema. Al momento della registrazione dovrai pagare 5 dollari per aprire il tuo account personale, nonché dovrai fare una donazione di 100 dollari, che sarà destinata agli altri membri del programma. Questo denaro viene distribuito automaticamente tra le persone che possiedono un certificato di invito. Nel particolare vengono trasferiti 10 dollari alla persona il cui nome occupa l'ultima riga del certificato. Alla sesta, alla quinta, alla quarta, alla terza e alla seconda persona presente in coda saranno riconosciuti 5 dollari. Alla prima persona presente nella lista invece andranno 15 dollari. Gli ultimi 50 dollari rimanenti, infine, verranno trasferiti sul conto del Fondo di Beneficenza Internazionale, Cool World. Il sistema emetterà il certificato di invito personale con il tuo nome, che apparirà sull'ultima linea. Gli altri nomi vengono ordinati nella riga successiva. Il certificato, che è a tutti gli effetti un invito al sistema, può essere stampato e dato a chiunque. Riceverai anche un link personale per il programma Cool World, che puoi utilizzare per inviare persone tramite la rete. Ogni volta che un nuovo utente invita una nuova persona al programma, ottiene 10 dollari, che saranno giunti automaticamente sul conto dell'interessato, in quanto il suo nome appare alla fine della lista. Quando il certificato personale del nuovo partecipante viene rilasciato, il tuo nome viene spostato di una riga. Questo significa che nuovi membri saranno registrati utilizzando i certificati delle altre persone invitate da te. Ogni volta che un membro è invitato da te farà entrare nel programma una nuova persona, riceverai nuovamente soldi e il tuo nome sarà spostato di una riga nella lista. Facciamo un esempio pratico. Hai invitato 5 persone. In questo caso il tuo reddito personale sarà di 50 dollari e il tuo nome è nella sesta linea su 5 certificati personali dei nuovi membri. Se ogni persona che tu hai invitato ha invitato a sua volta 5 persone, ricaverai 125 dollari e il tuo nome verrà spostato sulla quinta linea su 25 nuovi certificati. Quando arrivi a guadagnare 625 dollari, il tuo nome comparirà sulla quarta linea su 125 certificati. Lo step successivo, 3125 dollari. In questo caso il tuo nome appare nella terza linea su 625 certificati. Quando otterrai 15.625 dollari sul tuo account, il tuo nominativo sarà nella seconda linea su 3125 certificati. Se invece arriverai ad incassare 78.125 dollari, il tuo nome si troverà sulla prima linea su 15.625 certificati. E per finire, se avrai 78.125 persone che si registrano al programma utilizzando certificati con il tuo nome nella riga superiore, 1.171.875 dollari che verranno aggiunti automaticamente sul tuo account. In totale hai ricevuto 1.269.550 dollari e il tuo nome è riportato su 19.530 certificati che vengono utilizzati dai nuovi membri per effettuare ogni giorno nuove registrazioni. In questo modo verranno aggiunti sul tuo account nuovi soldi costantemente. Ogni giorno riceverai sempre più i trasferimenti di denaro, senza nessun limite. Devi sapere inoltre che l'assistenza finanziaria, in conformità con le regole del sistema, è fornita annualmente a ciascun partecipante. Così è possibile devolvere alla carità sempre più soldi ogni anno e il reddito, che viene rinnovato annualmente, si alzerà costantemente grazie ai numerosi trasferimenti monetari che riceverai da persone di tutto il mondo. Dunque otterrai un aiuto finanziario supplementare di più di un milione di euro totali, con 100.000 membri ogni anno. E pensa che nel caso di questo esempio si parla di aver invitato solo 5 persone. Il punto è che è possibile invitare tutte le persone che desideri. Ti rendi conto del potenziale di questo programma? Puoi ottenere il tuo certificato personale di membro fin da subito. Parla ai tuoi amici del programma di beneficenza internazionale Whole World e i tuoi guadagni saranno senza limiti. Grazie a tutti.